Secondo i dati di Assolombarda, le quattro professioni più richieste a Milano sono specialisti di marketing e ingegneri, tecnici amministrativi e contabili, dirigenti e manager, impiegati esecutivi. Secondo Veneto Lavoro, le professioni più richieste tra Venezia e mestre sono cameriere di ristorante, facchino, commesso e cameriere d'albergo. Nei grandi numeri, il turismo offre questi lavori e Venezia è la città con reddito medio più basso dell'intero nord-est. Gli studi della Fondazione Pellicani su dati ufficiali certificano la realtà di un comune che ha la popolazione più povera tra tutti i capoluoghi di provincia del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Una città con una base economica così attrae lavori dequalificati e soprattutto precari, spesso stagionali. Abbiamo visto che il reddito è fermo negli ultimi dieci anni ma anche che i lavori sono spesso quelli appunto legati agli alberghi, alla ristorazione, legati alla stagionalità e soprattutto alla precarietà e soprattutto sono lavori a basso valore aggiunto. 3 novembre 2020, centinaia di persone si ritrovano col passaparola per manifestare a Rialto e cingere d'assedio la sede del comune di Venezia. In pochi mesi il coronavirus ha fatto crollare come un castello di carta l'economia turistica, rivelando categorie di lavoratori precari, senza tutela, abbandonati a se stessi praticamente senza reddito. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 40% dei contribuenti, cioè dipendenti, pensionati e autonomi, dichiara un'imponibile IRPEF sotto i 15 mila euro. Anche a Mestre ovviamente si stanno sviluppando quelle attività sempre prevalentemente povere legate al turismo, ma soprattutto sta diventando il dormitorio di chi poi viene a lavorare a Venezia in tutte le varie attività turistiche. E' probabilmente l'assenza di sbocchi lavorativi ad aver determinato negli ultimi sette anni l'impressionante esodo di 34 mila residenti da Mestre, Marghera, Favaro e Zelarino, uno spopolamento maggiore di Venezia, ma quasi totalmente mitigato da una forte immigrazione, quasi sempre extraeuropea, la nuova forza lavoro dell'economia turistica. Chi non è d'accordo cerca altrove. Penso ad esempio ai giovani, ai giovani che finiscono gli studi o ai giovani tutti i giovani in età lavorativa che fuggono da Venezia, perché a Venezia non è appetibile, non è attrattiva per il lavoro. Offre lavori prevalentemente dequalificati, che ci vogliono anche quelli ovviamente, ma non possono essere gli unici.